Fondazione Francesca Rava è in prima linea nell'emergenza da 20 anni in aiuto ai bambini e alle famiglie in tutto il mondo e oggi siamo particolarmente grati e onorati di essere qui con MSC Foundation e MSC alla partenza di questa nave carica di aiuti umanitari che porteremo in gran parte a Chilis vicino al confine, vicino all'epicentro del terremoto e distribuiremo alle famiglie e ai bambini che hanno subito questa gravissima tragedia. Siamo da tanti anni impegnati e con i nostri partner, George Children, in prima linea lì dove purtroppo la situazione è ancora molto grave. Le MSC Foundation sono intervenuti immediatamente nei primi momenti dopo questa terribile tragedia che ha colpito la Siria e la Turchia soprattutto con un aiuto concreto mettendo a disposizione centinaia di container che adesso sono diventati purtroppo migliaia che vengono utilizzati come case per chi appunto casa non ce l'ha più e come magazzini. Oggi siamo qui a Napoli per l'iniziativa della nave MSC Aurelia che sta partendo carica di aiuti umanitari per la Turchia dove rimarrà per tutto il tempo che servirà per fronteggiare questa situazione. Altre iniziative che il UQMSC sta mettendo in piedi è la logistica, l'aiuto logistico in loco, la donazione di container e di trasporto gratuito di container verso le zone del sisma e ha lanciato una campagna di fundraising globale per un progetto sicuramente di ricostruzione nelle aree che sono state colpite dal terremoto.